metti 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 ancora un po più di formaggio è l'ingiustizia della vita cotoletta lui due piatti pasta cotoletta patatine poi no va bene mangiare allora vi volevo insegnare come si monta questo nuovo braccialetto che è molto molto filo però dovete essere attenta guardate bene allora primo scelgo da bastere con l'aceto rosso che contare il video allora il secondo passo di sbittare quindi quindi faccio vedere sembra difficile ma non è difficile sono io che non sono una volta che l'abbiamo aperto questo braccialetto sbitato dobbiamo scegliere l'attimo io ho scelto la c di sesilia e il cuore diciamo cecciolo ecco quindi andiamo infilarlo ultimo passo andiamo a chiudere il nostro braccialetto così non perdiamo gli attimi diciamo andiamo a mettere qui molta delicatezza eccoci qua siamo pronti che possiamo indossare io non lo taglio e l'aceto a chi lo vuole tenere più corto lo può non tagliare io lo preferisco così ecco eccomi io sono una fidanzata molto ma molto carino per quanto il braccialetto per il mio fidanzato mi ami ancora di più non posso metterlo